45esima edizione della Scalata al Castello, quali saranno i numeri di questa edizione? I numeri importanti, ma soprattutto la caratteristica della Scalata al Castello è la sua diversità rispetto alla trattativa di manifestazione, anche perché nell'arco del pomeriggio ci saranno diversi eventi, quindi partiremo con il settore giovanile, abbastanza divertente, perché poi vedremo proprio bambini alle prime armi nella corsa, che si esibiranno in un palcoscenico a loro un pochino anche strano. Poi sarà la volta degli amatori, quest'anno fra l'altro abbiamo superato tutto, volevamo fermarci a 350, siamo quasi arrivati a 500, quindi questo fa capire l'interesse anche di questa manifestazione, essere presenti, ma soprattutto poter partecipare alla gara. Poi andremo alle ore 18 invece con la gara internazionale femminile, che sicuramente quest'anno è la gara forse anche più aggreditata dal punto di vista tecnico, proprio vista la presenza di personaggi illustri come la Stranio, vice campionessa mondiale europea di maratona, poi ci avremo la console che è campionessa italiana della maratona e hanno scorsi 10.000 quest'anno seconda, insomma quindi avremo già due italiani che dovranno però per forza di cose lottare con una guerrita schiera di atleti provenienti dall'estero, dalla Gran Bretagna, dalla Romania e poi dall'Africa, che sicuramente daranno battaglia. Qui avremo dei personaggi importanti perché avremo la Geto, un atleta Kipsang che viene dalla Francia, è una keniana che però è stanza in Francia, che ha dei personali importanti e poi avremo anche questa rumena Florea, che invece riducerà il settimo posto a campionato europeo di mezza maratona e poi ovviamente avremo anche la schiera delle keniane che saranno accreditati, insomma quindi una lotta che direi molto incerta, non sapremo quello che sarà, ci sarà anche l'altra italiana, Ejafin, che anche lei è stata un tempo grande partecipare a livello nazionale, fra l'altro le prime due parteciperanno ai prossimi campionati del mondo in Gran Bretagna il prossimo agosto, quindi diciamo il lotto degli atleti dal punto di vista femminile è particolarmente accreditato e non ci saranno diciamo delle mezze misure, quindi difficilmente ci saranno forse delle doppiate. Mentre per quanto riguarda il settore maschile anche qui diciamo avremo il campionato italiano di maratona, di mezza maratona che è Donofrio, che è molto diciamo quotato, però sicuramente una gara in questa maniera ancora non sappiamo quello che potrà raggiungere, mentre lì avremo invece gli atleti dell'Africa che saranno i dominatori un po' assoluti, dai marocchini ai keniani ai ruandesi che potranno dire a loro. C'è Muitira 28,10 che è un tempo diciamo estremamente importante per quanto riguarda proprio la distanza specifica di 10 chilometri e poi avremo senz'altro diciamo anche altri, per esempio il vincitore di due anni fa, Rashir Yassin che è stato protagonista in volata con Stefano Rosa, purtroppo Stefano Rosa essendo convocato per i campionati mondiali non ha potuto partecipare alla federazione, gliel'ha impedito insomma di partecipare a questa competizione, questo ci ne dispiace perché sarebbe stato una pedina importante per la competizione.